Nessun segnale, non funziona. Niente, nessun segnale, da mesi. Nicola Toschi, assessore al comune di Filetto. In questa cittadina c'è un bel problema. Da più di un anno non funziona la linea fissa. C'è un paradosso. La fibra funziona benissimo con gli smartphone, con i collegamenti internet, ma la linea fissa no. La linea fissa è da più di un anno che non funziona. A parte qualche isolato evento che è ripartita per pochissimi giorni, poi zero. Il problema vero è che anche il comune è senza linea telefonica ed è un problema molto grave. In caso di emergenza non saremmo in grado di poterla gestire. E poi gli anziani. È un paese di anziani e non tutti sono capaci di usare lo smartphone. E quindi le bollette arrivano e quindi mi sembra una cosa scandalosa. Abbiamo scritto a chiunque, abbiamo scritto alla team, abbiamo scritto al prefetto, non abbiamo ricevuto risposta. Le condizioni delle linee team sono disastrose. I pali sono a terra, i cavi sono a terra e non si accenna ad una riparazione o ad una manutenzione. Ad una manutenzione scarsissima. Questo è un problema ovviamente che viene sentito e tanto non solo per il palazzo municipale isolato, ma anche per i commercianti, per chi ha un'attività. Luigi Libertini, lei è farmacista, ma è anche consigliere comunale. Sì, è da comunque più di un anno che comunque la linea è praticamente interrotta e già più di due anni, tre anni fa andava di intermittenza. Io me ne accorgevo soprattutto per l'utilizzo del post che andava su una linea telefonica e ogni volta che succedeva che venisse interrotta ero costretto a dire il post non funziona, cosa che sembrava diventare una barzelletta. Ho avuto la possibilità di scegliere di passare tutte le linee dal post alla linea telefonica tramite internet, chiamato ormaimente VoIP e per quanto mi ricorda ho risolto. Ma la problematica rimane soprattutto per le persone che abitano nel paese, che continuano a pagare regolarmente le bollette, il canone della Telecom e soprattutto sono persone anziane. Ma ancora più problematico è dover accedere alla possibilità di telefonare al comune. La casa comunale è praticamente isolata, spesso ricevo anche proprio in qualità di consigliere comunale, le telefonate da parte degli utenti che si lamentano che il comune non risponde. Addirittura qualcuno mi ha detto ma il comune è in ferie, è chiuso, avete tolto. Qui c'è anche un cittadino con la sua bella bolletta in mano, le bollette vengono pagate. Le bollette vengono pagate per restare in regola, ma qua non c'è possibilità, ne richiamate niente, non risponde nessuno, le istituzioni non rispondono niente con la bolletta. Quindi devi sempre cercare, però pago sempre.